c'era una volta quando l'estate era ancora in fiore e tutti gli animali della foresta gli uccelli e gli insetti si godevano le belle giornate di sole senza nessuna preoccupazione per il cibo una pigra cicala placida e spensierata sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero ma che bella giornata la 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 il violino fa zin 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 le parole io non le so ma non importa va tutto bene finito il suo canto un po' sgraziato sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati con grande fatica le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi la cicala scese a terra e confusa e meravigliata vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi a quanto pare non sono riuscito a raggiungerle ma come lavorano proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei proprio mentre stava per superare la cicala la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando non ce la faceva più e doveva riposarsi un po' la cicala la guardò con occhi beffardi ti stai trasferendo da qualche parte no non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo no beh allora si può sapere cosa stai facendo stiamo portando il cibo nella nostra tana allora state organizzando una festa con molti invitati stiamo facendo le scorte per l'inverno cosa mettete da parte il cibo per l'inverno ma perché e poi perché così presto c'è ancora tempo godetevi l'estate finché potete divertitevi e non pensate al peggio sì certo e poi d'inverno come facciamo sono certo che in qualche modo si farà non preoccuparti tutto ciò cui sai pensare il divertimento ma poi cosa mangerai d'inverno ci penserò quando arriverà l'inverno per adesso penso a stare bene c'è da mangiare dappertutto perché preoccuparsi la formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere devo cercare di raggiungere gli altri puoi aiutarmi per favore a rimettere il seme sulla schiena io canto e suono sono un artista non posso fare lavori simili dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala la formica diede un'occhiata un po' sprezzante poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme beh in fondo posso anche aiutarti se puoi la cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica lei ringraziò e proseguì per la sua strada mi pare proprio uno sforzo inutile la cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero dopo aver mangiato un po' delle sue radici riprese a suonare il suo violino ma che bella giornata la 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 il violino fa zin 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 le parole io non le so ma non importa va tutto bene la 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 proprio in quel momento sbuccò dall'albero uno scoiattolo basta basta per favore vai a cantare da un'altra parte sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio allora la cicala si interruppe diede un'occhiata allo scoiattolo prese il suo violino e se ne andò non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta durante tutte le calde giornate estive le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando cantando e suonando tranquillamente il suo violino alla fine arrivò l'inverno freddo un mattino le formiche dopo essersi alzate diedero uno sguardo fuori e vederò che tutto attorno era coperto di neve pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo in effetti la cicala da parte sua non aveva mangiato niente da giorni era tutta infreddolita e stava perdendo le forze non riusciva neanche più a cantare né a suonare cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare improvvisamente le venne in mente l'estate che bei giorni ho passato c'era cibo in abbondanza avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice in quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa la cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare devo mettere da parte il mio orgoglio cercare la donna della formica e chiederle aiuto così si diresse verso la tana si fermò davanti alla porta e chiamò c'è qualcuno aiutatemi per favore da dentro la tana si udì un rumore la cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste formica amica mia sono io la cicala ti prego fammi entrare la formica regina che aveva sentito tutto si avvicinò alla piccola formica e le chiese che cosa succede chi chiede aiuto oh mia regina è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare penso che abbia fame e cerchi aiuto chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato la regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta la aprirono e uscirono la cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana grazie al calduccio della tana la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare finalmente si sentiva molto meglio ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica sono stato molto ingiusto con te per tutta l'estate mentre tu lavoravi io stavo seduto a cantare a suonare tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male ma non ti ho preso sul serio mi dispiace credo che tu adesso abbia capito vedi anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno oziare e divertirci ma dobbiamo pensare anche al futuro se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione la cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche e si sentì veramente bene quando fu ora di andarsene le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé grazie di tutto mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai ed ora in poi non sarò più tanto pigro posso chiederti un favore ma certo dimmi tutto quello che vuoi quando arriverà di nuovo l'estate puoi prendere lezioni di musica così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali se biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega se cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe se la sirenetta non avesse salvato il principe e se ansa e le gretel non fossero entrati in quella casa o se cappuccetto rosso non avesse detto al lupo dove stava andando non sarebbe esistita nessuna di queste favole e invece grazie a loro viviamo meravigliose avventure andiamo in posti mai visti a volte si lotta contro il male a volte contro il tempo le favole ci fanno conoscere le vere passioni l'amore l'amicizia la solidarietà ci uniscono come in una grande famiglia piangiamo insieme ridiamo insieme e alla fine impariamo sempre qualcosa con le favole più belle e più amate adisse baba il canale dei racconti per bambini ti aspetta su youtube